Il convegno odierno organizzato dal CSM sul tema della dignità umana e della fine della vita tocca delle tematiche di importanza cruciale nell'attuale dibattito giuridico ma anche di grande interesse per l'opinione pubblica. Si tratta di riflettere se vi sono limiti alla libertà di autodeterminazione, che natura abbiano e in particolar modo se l'attuale quadro normativo rappresenta un punto di equilibrio adeguato tra diversi interessi costituzionalmente rilevanti. L'ordinanza della Corte Costituzionale del 2018 sembra mettere in discussione questo quadro normativo e aprire delle prospettive nuove.